Ciao a tutti, spero che stiate bene, buona settimana. Envy News di oggi, ho visitato la scorsa settimana la mostra che si intitola Out of Sea del Museo di Zurigo, ospitata dal Museo Accomambienta Torino, è terminata proprio questo weekend e proseguirà a girare per il mondo. Questo mostra che pone l'attenzione su quanta plastica finisce negli oceani, quanti rifiuti in particolare la plastica. Ad alcune diverse sezioni, intanto come ci potrebbero vedere in futuro gli archeologi quando disegneranno i frammenti di plastica come noi oggi disegniamo i cocci, come gli archeologi oggi disegnano i cocci che ritrovano negli scavi, da questo come potranno intuire il nostro stile di vita, come viviamo, poi gli impatti ambientali e così via, fino anche alle alternative. Ovviamente non c'è una sola causa, è un insieme di concause, dal fatto che se ne produce obiettivamente troppa, per gli scopi diversi, perché si pensava che in fondo fosse un materiale leggero, funzionale, resistente, che ci risolvesse un sacco di problemi e in parte così è, fino appunto al non buttarla nel posto giusto, alzi buttarla nell'ambiente dove poi si concentra nei mari ed entra nella catena alimentare. Accanto a questo piccolissimo e rapidissimo resoconto del fatto di aver visto questa mostra, l'NV News la dedico a questo nuovo progetto che si chiama Luxon, è una nuova azienda che nasce dalla fusione o comunque dall'accordo tra Bio, On e Era per produrre una nuova bioplastica. Bioplastica che deriva dagli scarti di lavorazione dell'industria agroalimentare e quindi le cosiddette fonti di seconda generazione, cioè non coltivate per produrre bioplastica, ma come scarti di lavorazione, e dalla CO2 che c'è in atmosfera, che viene catturata per produrre, diciamo, il tessuto nel quale vengono poi inseriti le molecole per fare la bioplastica. Certo questo non risolverà il problema di catturare il CO2, avete visto oggi il dato incredibile, abbiamo superato i 413 parti per milione, ma è un certo un passo avanti verso una maggior sostenibilità. Speriamo, speriamo che l'innovazione da un lato e i nostri comportamenti dall'altro ci convincano che si può cambiare rotta. Vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, buona giornata e buona settimana. Ciao ciao!